Ebbene a tutti ragazzi benvenuti in questa seconda parte del video di Mario 3 eccetera eccetera di Mario Maker quindi ovviamente il nostro amico Emanuele a poco si dovrà lasciare ovviamente nei primi due minuti di puntata ovviamente ci accompagnerà vero fra ok quindi allora il nostro amico ce ne dovrebbe andare vabbè è la prossima volta fai la facciatrice bravo ok quindi continuiamo la nostra avventura sulla costruzione del livello allora abbiamo già finito la barca abbiamo già finito la barca poi dopo aver finito la barca ovviamente iscrivete hashtag Emanuele Francesco e Stefano ovviamente vero nei commenti ok allora questo di qua ok allora qua ci mettiamo non lo so non lo so delle monete quante non lo so 1 2 3 4 5 5 6 ovviamente ragazzi ditemi se la qualità va bene adesso adesso ci mettiamo un bel tubo con le piatte carnivore con le piatte carnivore ovviamente per farlo molto più difficile adesso io però un'altra foto e poi possiamo andarmene sono ancora io potresti restare ancora due minuti innanzitutto mettiamo ok un Bowser qui piccolo un altro qui piccolo ovviamente Emanuele ovviamente stai sto parlando io grazie ah ok un altro Bowser lì piccolo e un altro Bowser qui gigante ok che bellino così si è molto difficile eh ok eh quindi salutiamo tutti ciao come sta andando purtroppo eh è un peccato ci vediamo in una prossima puntata ok yes eh mmm ok allora cominciamo facciamo il gumba così in fila no si dice il gumba il gumba così tutti in fila tutti in fila ok saluta a tutti ciao fratto ciao ciao io me sto andando e ci vedremo l'altra volta ciao ciao allora comunicazione 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 comunichiamo questi ok e vediamo ok adesso cammineranno così perché li abbiamo comunicati esatto cammineranno tutti insieme così cosa ho fatto? l'ho aggittato chi aveva fatto di male? perché l'ho aggittato esattamente cosa devo ancora parlare? scusate ragazzi ma non notate ovviamente ragazzi scusate per la parlantera ma ma non siamo proprio in grande silenzio anzi per niente esattamente esattamente ci sono delle ragazze chiaccherone ecco possiamo dirlo ecco ok ragazzi non notate abbiamo già messo in fila ovviamente non ci fate caso alle voci già adesso metteremo questi va male mi devi fare veloce ok ovviamente ragazzi finiamo veloce e poi altri questi rossi ok ok 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ok ok ragazzi qui direi che il video dobbiamo fare così tutti i cupi a caso di qua si però dobbiamo finire in fretta allora proviamo questo proviamo il livello veloce allora mettiamolo da cazzo ok ragazzi proviamo il livello chi se ne frega ma dai comunque è difficile adesso lo salviamo e noi ragazzi ci becchiamo in una prossima un video con super aspetta guarda fra la telecamera con super mario maker ci rivediamo in un altro episodio mettete tanti mi piace 100 like e ci vediamo al prossimo video ciao